...dai arziando a pizzo del suo orno, se con un pede che è in posto, qualche problema che è tornato ad aderizzare, e un sanzuto del suo mazucco si carzia e saluta sul pubblico del creizzo. Una figura benegatta, un due paio mancare di più velocità, però andrà bene pur ugai.